Ciao a tutti, oggi video sui prodotti bocciati del mese di maggio e giugno non sono tantissimi però comunque volevo farlo allora il primo prodotto che boccio subito è questo latte detergente idratante della Yves Rocher mi dispiace bocciarlo perché voi sapete che a me piacciono tantissimo i prodotti della Yves Rocher ne uso davvero tanti però questo qui mi sento di bocciarlo perché come secondo ingrediente ha la paraffina liquida quindi assolutamente bocciato sapete che io cerco sempre prodotti bio naturali e mi sono fatta un poco illudere dal colore della confezione, dal disegnino pensavo fosse della linea bio non ci ho fatto molto caso, non ho letto l'inci subito e ho sbagliato e quindi l'ho usato veramente pochissimo perché sinceramente come secondo ingrediente vuol dire che ce ne è proprio tanta all'interno e no, fa male quindi bocciato questo qui state attente se siete alla ricerca di prodotti bio o avete bisogno di un latte detergente idratante non vi fate illudere questo non è bio assolutamente non fate il mio errore leggete l'inci un altro prodotto che boccio è questo deodorante in stick della Neutro Roberts questo white fresh 100% freschezza 0% di macchie e bocciatissimo perché secondo me puzza lascia un cattivo odore proprio assolutamente no io dopo averlo messo dopo un pochino sentivo degli odori strani ed ero io praticamente era questo deodorante che non lo so insieme con il sudore comunque fa veramente evanare dei cattivi odori bocciatissimo ci sono rimasta un po' male perché l'ho usato poco però sinceramente se è un deodorante deve deodorare insomma non deve lasciare cattivi odori e questo qui almeno su di me ha fatto questo questa cosa io fatemi sapere se voi l'avete usato questo qui in stick della Neutro Roberts non mette a fuoco però è questo qui bianco fatemi sapere se anche a voi ha fatto lo stesso effetto perché a me veramente ha dato dava molto molto fastidio in più brucia anche quindi dovrebbe contenere cosa c'è cosa c'è all'interno alcol qualcosa che brucia sì dopo la dipidazione quindi lascia cattivi odori e brucia bocciatissimo un altro prodotto che mi sento di bocciare è questa spuma della Bilba allora so che questi prodotti della Bilba non hanno un buon inci però avevo fretta avevo bisogno di qualcosa per per i capelli e sono andata ad acqua e sapone e ho comprato questa qui e sinceramente la boccio subito questa è quella semi di lino e cristalli liquido non ho letto l'ince assolutamente però mi sento di bocciarla perché secondo me non serve a niente anzi io di solito metto la schiuma e poi le asciugo con il diffusore ma per renderli un pochino e per dargli un pochino più di volume questa qui invece di dare volume appiattisce il riccio quindi la boccia in più sicuramente avrà un pessimo inci però questo non avendo letto ecco gli ingredienti non ve lo posso dire la boccio perché a me veramente non è servita a nulla fatemi sapere se anche voi l'avete usata e come mi siete trovate io malissimo poi un'altra cosina che boccio è una crema viso della Garnier questa qui rosa rosa chiaro questa è per pelli secche o sensibili non so se riuscite a vedere questa è veramente molto molto compatta come crema e mi dispiace bocciarla perché all'inizio mi era piaciuta però poi mi sono resa conto che invece di andare ad idratare la mia pelle andavo a seccarla dopo un pochino all'inizio non me lo faceva poi dopo un poco che la usavo andavo ad applicarla sul viso e dopo circa 5 minuti mi sentivo la pelle tipo lifting che mi tirava e che mi si seccava ancora di più e sinceramente se è una crema idratante per pelli secche e sensibile non dovrebbe avere questo effetto ma anzi dovrebbe andare ad idratare in profondità e questa non non lo fa assolutamente e mi dispiace quindi la boccio qui sotto c'è scritto crema ricca idratante 24 ore che si assorbe rapidamente quello si e può essere applicato mattina e sera su tutto il viso però si si assorbe rapidamente ma secca anche la pelle a mio avviso o perché io ho la pelle molto molto secca quella del viso o non so comunque io la boccio questa qui della Garnier poi un'altra cosa che boccio sono queste salviettine qui autoabbronzanti si vedono ecco della fria queste sono per dovrebbero essere viso e corpo 100% naturale naturali sicure non irritanti io le avevo prese per provarle ero incuriosita per il viso perché si vede sono ancora cadaverica non sono ancora stata al mare e quindi volevo un pochino dare colore al mio viso non l'avessi mai fatto l'ho messa sul viso l'ho cercato di stenderla bene perché come sapete con gli autoabbronzanti si rischia di se non si stendono bene se non si applicano bene c'è il rischio di diventare a chiazze e con questo mi è successo praticamente mi ha macchiato il viso c'avevo il viso a chiazze è bruttissimo non ve le sconsiglio se avete bisogno di un autoabbronzante viso non usate queste salviettine qui perché ve lo macchiano super bocciate sì io le usate solo per il viso poi per il corpo non so se funzionano però essendo non lo so sono salviettine sono strane a me non sono piaciute e quindi le boccio poi ho due prodottini di make up che devo bocciare uno è questa matita della S che come vedete ho usato questa è la Essence Taze no matter what quella waterproof marrone e ve la strans consiglio perché ha una pessima stesura cioè io faccio fatica a stenderla impossibile da sfumare mi sono trovata malissimo ho provato ho provato a stenderla sia all'esterno sull'occhio che all'interno all'interno non scrive proprio e poi secondo me dovrebbe essere waterproof però no secondo me non funziona e quindi questa qui la boccio non mi sono trovata per niente bene e non continuerò ad usarla un altro prodotto l'ultimo prodotto che boccio è questo ombrettino qui della Kiko dovrebbe essere un ombretto a lunga tenuta non so se l'avete usato questi qui è praticamente una penna all'interno del tappino dovrebbe esserci il prodotto e io trovo che questo ombretto sia inutile nel senso che come se non come se non ci fosse come se non scrivesse è strano vedete io lo non so se si riesce a vedere eccolo lì è veramente super chiaro io ho preso il numero che numero non si capisce comunque questo color oro e mi sono trovata malissimo cioè più lo stendevo sull'occhio più non si vedeva e quindi secondo me all'interno del tappino c'è una quantità minima di prodotto e con questo con questa penna non si riesce a prelevare e quindi lo trovo un prodotto inutile almeno io ho usato solo questo colore fatemi sapere voi se l'avete usati se avete usato qualche altro colore perché può essere che questo sia un colore troppo chiaro però sinceramente io lo boccio perché a me non ha funzionato cioè non non si vedeva sull'occhio assolutamente e quindi siccome il prezzo ora non me lo ricordo perché l'ho comprato l'estate scorsa però mi ricordo che non era molto basso il prezzo quindi per la quantità di prodotto e per il prezzo e per la qualità lo boccio questo ombretto qui e niente questi erano i miei prodotti bocciati del mese di maggio e giugno fatemi sapere se anche voi ne avete usato qualcuno e come vi siete trovate perché poi è naturale ognuna ogni prodotto poi è diverso per ognuna di noi lo stesso prodotto non piacere a me però piacere a qualcun'altra quindi fatemi sapere come vi siete trovate voi se li conoscete noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio e a presto ciao